ciao a tutti ciao ragazzi un bravissimo video si questo video diciamo un video di servizio di servizio allora alcuni ci chiedono perché non monetizziamo i nostri video su youtube quindi la domanda è perché non monetizzate? perché cazzo non sapevamo che si potrebbero monetizzare se ve lo dicevate prima lì che l'opnetto scusate voi sono due bidocchiosi morti di fame tu vieni andiamo fatti gli scherzi non monetizziamo semplicemente perché c'è stato chiesto da altri youtuber che lo fanno e anche ovviamente da chi gestisce queste cose come mai non monetizziamo semplicemente perché noi vogliamo dare un servizio a voi no per noi è un servizio che noi ci divertiamo a fare video voi ricevete informazioni e vedete scherzate con noi poi sui commenti e il nostro lavoro è un altro e quindi ognuno deve fare il suo mestiere secondo noi il nostro mestiere non è fargli youtuber noi siamo qua a fare un po i deficienti a volte e cerchiamo di dare un servizio ma il nostro lavoro come sapete è un altro non è sicuramente farlo youtuber gli youtuber è giusto che monetizzino perché assolutamente magari il loro grosso delle entrate poi non so sono affari loro noi non vogliamo rompere le scatole ai nostri clienti i nostri utenti che si vedono le pubblicità che devono cliccare insomma come da fastidio a noi quando guardiamo le altre cose non vogliamo creare quel fastidio per niente già scorre già scorrete il video avanti non vedete tutto se poi diventiamo le pubblicità cioè ragazzi quindi preferiamo preferiamo così e speriamo che la cosa sia sia gradita esatto quindi questa è la risposta alla domanda che alcuni esatto su perché la monetizziamo tutto qua ragazzi va bene se potete iscrivetevi al canale basta un piccolo clic sulla campanellina anche per ricevere notifiche fate quello che volete insomma noi siamo qua ok ciao